benvenuti in questa video guida voglio parlarvi della fantastica funzione maschera livello che si trova nei pannelli di controllo degli strumenti di regolazione mirata di lightroom e camera raw scopriremo come lavora usando questa immagine dopo averla aperta in camera raw da adobe bridge nella barra superiore di camera raw troviamo i tre strumenti di regolazione mirata che hanno la funzione maschera intervallo il pennello di regolazione il filtro graduato e il filtro radiale facciamo clic sul filtro graduato con cui miglioreremo questa foto rendendone più scuro il cielo per cominciare diminuiamo i valori di esposizione utilizzando l'icona con il segno meno che si trova a sinistra del nome facciamoci clic sopra due volte per portare l'esposizione a meno 1 quindi facciamo clic con il filtro in un punto del cielo relativamente vicino all'orizzonte trasciniamolo un poco in basso così da ottenere un buon effetto da cui partire questo cielo è decisamente più interessante dell'originale ma come possiamo vedere a destra c'è un'area troppo scura ed è qui che la funzione maschera intervallo entra in gioco permettendoci di scegliere con estrema precisione dove applicare l'effetto del filtro graduato se andiamo in fondo al pannello di controllo vediamo che nella casella maschera intervallo è presente l'opzione nessuno ma possiamo attivare questa funzione scegliendo colori o luminanza in questo caso visto che dobbiamo lavorare sulla parte scura del cielo sceglieremo luminanza bene all'estremità della barra intervallo luminanza troviamo due corsori che ci permetteranno di scegliere nella gamma tonale dell'immagine il particolare intervallo su cui vogliamo intervenire portando a destra il cursore dell'estremità sinistra proteggiamo dall'effetto del filtro i toni più scuri del cielo che quindi non vengono scuriti rispetto all'immagine originale per comprendere meglio proviamo a spostare il cursore in varie posizioni e vedremo che la luminosità della zona destra varia in modo anche considerevole a seconda di dove posizioniamo il cursore della barra allo stesso modo con l'opzione colori possiamo scegliere un'area in base ai colori campionati su cui andremo a lavorare per modulare l'effetto del filtro voglio mostrarvi allora un esempio di come lavora la funzione maschera all'intervallo basandosi sui colori chiudiamo questa foto e andiamo ad aprire in camera raw l'immagine di una ruota dei colori prendiamo il filtro radiale che si presta meglio a questo esempio e facciamo clic al centro della ruota per definire un'area circolare con il solo trascinamento è probabile che al posto di un cerchio si formi nell'isse quindi per far sì che l'area risulti perfettamente circolare teniamo premuto il tasto maiusc ora nel pannello di controllo del filtro facciamo doppio clic sul cursore dell'esposizione per portare a zero questo parametro poi portiamo la saturazione a meno 100 per eliminare i colori dall'effetto del filtro per finire torniamo all'esposizione e portiamola a meno 1,85 tutto ciò che sta fuori dal cerchio subisce l'effetto del filtro radiale ed è privo di colori visto che ne abbiamo appena impostato la saturazione a meno 100 ma scendiamo in fondo al pannello di controllo e andiamo a vedere come con la funzione maschera intervallo possiamo applicare questo effetto solo in una sua parte per prima cosa portiamo la sfumatura 11 quindi nella casella maschera intervallo scegliamo colori a questo punto possiamo fare clic sui differenti colori della ruota per esempio sul giallo all'interno e vediamo che solo il corrispondente intervallo di colori rimarrà privo di saturazione per effetto del filtro lo stesso accade se campioniamo un verde o un blu finora il filtro ha avuto effetto ogni volta su un singolo intervallo di colori ma se vogliamo che agisca su più intervalli è sufficiente tenere premuto il tasto maiusc e fare clic in più punti della ruota per campionare diversi colori contemporaneamente ora vediamo come agisce il cursore della barra maschera livello una volta selezionato un intervallo di colori se lo portiamo dal centro verso destra vediamo come l'intervallo di colori diventi sempre più ampio includendo anche quelli vicini al colore campionato in origine se a questo punto spingiamo il cursore a sinistra fino all'estremità opposta vediamo che l'intervallo si restringe molto molto dipende anche dalla scelta del colore campionato infatti se anziché cliccare su un singolo punto della ruota carriamo con il contagoccio una selezione più ampia anche l'intervallo di colori selezionato sarà più ampio questo è come funziona maschera intervallo basata sui colori ma ora passiamo un'altra immagine che apriremo sempre in camera roda bridge per vedere ancora un po come agisce il controllo basato sulla luminanza prendiamo il filtro graduato e nel pannello di controllo per prima cosa portiamo a zero tutti i parametri quindi alziamo la saturazione a più 100 e infine facciamo clic sul rettangolo del colore e scegliamo un verde acceso abbassiamo l'esposizione a meno 1 e facciamo clic al centro dell'immagine trascinando un cursore un po' verso il basso per creare una fascia colorata nella parte superiore scorriamo in basso e nella casella maschera intervallo scegliamo l'opzione luminanza poi con i cursori della barra intervallo luminanza scegliamo i toni in cui lavorare ricordandoci che nella parte destra della barra si trovano i toni chiari mentre in quella sinistra i toni scuri se spostiamo entrambi i cursori a sinistra l'effetto del filtro graduato verrà applicato ai toni scuri e allo stesso modo se li spostiamo a destra verrà applicato a quelli chiari il cursore della barra sfumatura regola la transizione tra la zona a cui viene applicato l'effetto e quella che viene esclusa da esso se lo spostiamo a destra la transizione diventa più morbida e interessa un ampio intervallo di toni mentre se lo spostiamo a sinistra la transizione diventa più netta per vedere meglio la differenza riduciamo l'intervallo di luminanza in modo che l'effetto sia applicato un minor numero di toni utilizzando in combinazione i cursori delle due bande possiamo selezionare con precisione i toni a cui applicare l'effetto bene abbiamo visto come funziona la maschera intervallo in camera raw e lo stesso avviene in lightroom e come ci permetta di modulare accuratamente e velocemente le regolazioni mirate applicati con gli strumenti di regolazione mirata arrivederci